Cominciamo con la riete. Tenetevi pronti a cogliere brillanti occasioni sul piano professionale e sociale e sbloccherà una situazione ferma da qualche tempo. Toro, mettete in conto un po' di stanchezza fisica in questa giornata, una delusione da parte di un amico e una piccola battuta d'arresto nel lavoro se avete un'attività autonoma. Gemelli, tutto è in ordine sotto il vostro cielo. Il momento è molto incoraggiante per dar via ad iniziative e per divertirvi col partner o con gli amici, ma anche per rivedere alcune situazioni che necessitano assolutamente di maggior impegno. Cancro, le stelle amplificano la vostra emotività e vi rendono fragili, vulnerabili e nostalgici. Ma attenzione, se continuate a guardare al passato, rischiate di non vedere quello che il presente vi sta offrendo. Leone, novità si avvicinano a grandi passi, soprattutto per chi è libero e indipendente nella professione. Preparate le vostre strategie per non farvi cogliere impreparati e sfruttate il vostro intuito per gli affari. Vergine, il classico colpo di genio vi farà risolvere all'ultimo momento una questione che all'inizio sembrava disperata. La vita sentimentale invece sarà movimentata dal desiderio di vivere emozioni e sensazioni nuove. Bilancia, piuttosto irritabile e nervosi in questi giorni rischiati di farvi parecchi nemici a causa di un comportamento polemico poco gradito a coloro che vi stanno vicino o che devono avere a che fare con voi. Scorpione, potrete contare su una giornata produttiva qualunque sia la vostra condizione professionale. Lavorerete con entusiasmo, sarete impegnatissimi, avrete ritmi serrati e i risultati finali non mancheranno. Sagittario, ottimo giorno da un punto di vista professionale. La grinta non vi farà difetto e avrete dalla vostra parte persino consistenti dosi di fortuna. Capricorno, potreste avere un umore un po' scontroso oggi e quindi avere la tendenza a non fidarvi degli altri. Potreste anche incontrare alcuni ostacoli tali da rallentare il lavoro e farvi perdere facilmente la pazienza. Acquario, per tutto il giorno vi darete molto da fare per creare condizioni di vita a due più eccitanti e più rispondenti al vostro romanticismo. Infatti, da tempo siete stanchi dai soliti discorsi. Pesci, le stelle contribuiscono a rendere vantaggiose di soddisfazione le attività professionali di tutti coloro che sono liberi e indipendenti nel lavoro. L'amore prospetta un giorno magico, per certi versi irripetibile, a chi vive una felice intesa di coppia. Grazie.